Bene ragazzi, ciao a tutti, video di emergenza per quanto riguarda il mercato crypto bitcoin fa un flash crash, si porta dietro tutto il mercato proprio nella notte tra venerdì e sabato, quindi nel weekend quando ci sono meno volumi, nella giornata di sabato che è quella meno voluminosa diciamo così, quindi quella meno trafficata, inatteso come sempre alle notte flash crash. Che cosa è successo, cosa è cambiato e soprattutto come questo flash crash cambia radicalmente quelle che sono le aspettative quantomeno fino alla fine del mese di dicembre e anche probabilmente fino ai prossimi, per le prossime settimane dopo l'inizio dell'anno. Cosa è successo? In particolar modo un break, quello legato ai livelli del minimo della scorsa settimana, cioè il break dei 53 e 3, diciamo da lì là per un flash crash incredibile e va bitcoin a costruire una settimana tra le peggiori degli ultimi 6 mesi. Al momento siamo a meno 17,70% e le ultime settimane che avevano superato questo tipo di andamento, considerate che ancora è sabato, quindi non sappiamo se il mercato riuscirà a recuperare nella giornata magari di domani. Solitamente la domenica non è una buona giornata per i mercati cripto, a volte bitcoin la domenica inizia bene e poi finisce male, quindi solitamente è anche una tipologia di giorno dove non ci sono gli investitori istituzionali, quindi solitamente i mercati vanno un po' per i fatti loro e poi si rimettono in sesto all'inizio della giornata lunedì. Allora, meno 20 era maggio ragazzi e poi meno 25, quindi le famose due settimane di maggio che avevano dato il via alla chiusura del ciclo annuale. Allora, questa settimana meno 17,61 in questo momento, tra le altre cose, ma c'è stato anche un flash crash, vi faccio vedere fino a dove è arrivato, il mercato è arrivato addirittura fino a un minimo di 42.000 dollari, cioè è andato ad avvicinarsi in pratica a quelli che erano stati i minimi di settembre dai quali era partito poi il famoso ciclo mensile che aveva fatto i massimi, quindi quello che aveva portato verso il massimo dell'8 di novembre. Assolutamente in attesa, una debolezza di questa entità, bitcoin indica che il ciclo semestrale, in questo caso, quindi la metà del ciclo annuale, è in fase palese di chiusura ma è anche troppo presto. Questo è il problema di fondo perché una cosa del genere il 4 di dicembre è assolutamente fuori schema, è assolutamente fuori da un punto di vista di tempistiche e questo può voler dire che il mercato continuerà una fase di debolezza, magari questo minimo potrà anche resistere, però probabilmente il mercato continuerà con una fase di rimbalzi e quindi di pump e dump leggeri in questa struttura, sempre se questo minimo ha 42 reggerà, ora lo vedremo, per i prossimi 20 giorni, perché il ciclo mensile, quello di dicembre, è praticamente all'80% già ribassista come erano anche i precedenti, anzi ve lo faccio vedere sul grafico del time frame daily. Ecco il grafico anche sul daily, sul time frame daily, ragazzi, poi ovviamente vedremo queste cose nel bio di non ed io, sono fuori tra le altre cose, queste situazioni succedono sempre quando sono fuori sede, quindi non riesco a farvi analisi diciamo più precise, guardate come comunque la struttura di questa fase di ciclo sia già volta totalmente al ribasso, quindi Bitcoin nell'ultima fase di rialzo, quindi gli ultimi tre giorni non era quelli verdi, non era riuscito a superare queste due medie e niente, il trend ha continuato ad essere ribassista, l'unica aspettativa era appunto l'inizio di un ciclo mensile che potesse essere più forte e andare a breccare questa fase qui, avevamo avuto il dubbio lunedì, ve l'avevo detto che forse dicembre poteva essere ancora negativo, ma certamente non mi aspettavo una negatività di questa proporzione, questo significa in ogni caso che siamo nella chiusura del ciclo semestrale, ritorniamo al grafico settimanale per vederlo meglio, vi faccio vedere anche TH, vi faccio vedere anche i livelli di supporto che devono assolutamente reggere, sotto i quali probabilmente vira anche alla trend ribassista l'intera struttura ciclica del mercato cripto, la cosa poi volgerebbe probabilmente in un mercato orso che non vuole nessuno ragazzi, e soprattutto sarebbe stato meglio non avere in questa fase di fine anno. Allora questa struttura che vediamo in questo momento qui tecnicamente chiude questo ciclo annuale, insomma facciamo analisi solo di lungo per capire dove possono essere i supporti nel mercato, quindi dov'è la fase diciamo del mercato che può dare respiro. Allora questa struttura annuale è ancora molto vicina alla sua fase iniziale ragazzi, perché se l'annuale è iniziato a giugno, probabilmente è iniziato a giugno, 161 giorni potrebbe essere una fase di chiusura di un ciclo semestrale corto, ma è troppo presto, troppo presto per dirlo, quindi molto più probabile che il mercato vada a continuare questa sua fase di riflessione, magari vi ripeto non andrà giù sotto i 42, perché se fa un break dei 42 si salvi chi può, ve lo già vi avviso da questo punto di vista, però al di sotto, da un punto di vista temporale, questa fase semestrale potrebbe anche durare addirittura fino a febbraio, febbraio che a questo punto è una data che dobbiamo tenere a mente, perché anche i mercati classici, i mercati old, stanno probabilmente andando a chiudere un ciclo annuale verso questa data, e quindi è difficile che i mercati crypto reggano un'eventuale chiusura dei mercati old, avete visto che cosa è successo, proprio perché il mercato old, vi faccio vedere anche il Nasdaq per esempio, sta facendo questa fase di respiro, quindi i mercati crypto lo accentuano in maniera abbastanza consistente, come sempre, insomma sono molto più volatili. Allora, queste due medie sono le medie che vedete di ultimo faro, in pratica, sotto la media a questa arancione, il grafico ovviamente con una chiusura settimanale al di sotto di questa media arancione, come tecnicamente la struttura ciclica di Bitcoin vira in trend ribassista di medio periodo. Medio intendo anche, in questo caso, sei mesi, otto mesi ragazzi, quindi potrebbe essere il famoso segnale che il mercato inizia una fase di mercato orso a chiudere poi l'annuale. Guardate come è lontana la possibile chiusura di questo ciclo annuale che è verso ottobre del 2022, quindi siamo veramente molto alla, diciamo, nei primi giorni, quindi un break ribassista in questa fase non è buono ragazzi, non è buono per niente. Quindi o qui andiamo a chiudere questo ciclo semestrale e andiamo a poi fare un nuovo semestrale che a questo punto diventa un po' difficile che riesca a fare grandi numeri, magari una cosa del genere, ma sicuramente insomma avrà un po' il fiato addosso ragazzi, perché poi nella seconda parte del ciclo annuale il mercato non è sempre molto spinto, quindi dipende un po' dalla struttura. Però questo tipo di atteggiamento dei mercati cripto è assolutamente nuovo rispetto anche al passato e questo non è una cosa strana, proprio perché stanno cambiando anche le strutture fondamentali delle cripto che restano comunque assolutamente validi e saldi, quindi ricordiamoci che queste fluttuazioni di prezzo sono comunque frutto della volatilità classica di questi mercati ed è impossibile andare a ragionare e a dire, ok, questi mercati salgono sempre con trend molto delineati. Purtroppo ci hanno abituato, insomma noi ne abbiamo visti veramente di cotta e di cruda, ci hanno abituato a questo tipo di settimane. Allora, il mercato ha impattato su questo livello di supporto, che è l'ultimo faro, insomma, di questo trend che era iniziato con l'annuale appunto a giugno e sotto queste due medie, ovviamente con una chiusura settimanale, ma se la fa ragazzi aspettatevi un flash crash, cioè se va sotto queste due medie e il mercato non regge, finirà almeno in zona 30 e qualcosa. Da questo punto di vista una cosa del genere sarebbe assolutamente un segnale molto negativo e poi bisognerà ovviamente capire se il mercato riuscirà a ripristinare un trend, quantomeno laterale, per fermare l'ondata di ribasso. Quindi una cosa del genere è da scongiulare, ragazzi, scongiulare. Quindi l'aspettativa in questo momento è che reggano queste due medie, che sono un punto di arrivo per quanto riguarda Bitcoin. Vi faccio vedere TH tra poco, ragazzi, restate con me perché TH è importantissimo da vedere. Ho già pronto il grafico, quindi, diciamo, state qui sul canale perché devo farvi vedere una cosa su TH. Allora, nel momento in cui queste due medie vanno a reggere, il mercato ha ancora possibilità di andare a chiudere questo semestrale e poi ripristinare un nuovo trend. Vi faccio capire dove sta la questione del semestrale. Allora, questa è la sua lunghezza, tecnicamente, quella che dovrebbe avvenire. Ma se fa un semestrale di natura ternaria, poi ve lo spiego, diciamo, nel video di lunedì, si va intorno a fine mese di dicembre. Quindi questo è quello che vi avevo accennato proprio nel video di lunedì. Riguardate anche quello dove vi parlavo di questa situazione. Quindi se sta costruendo un semestrale di natura più corta e quindi che poi farà un annuale con tre cicli, è in questa zona, quindi fra un paio di settimane, che deve andare a chiudere la struttura ciclica. A questo punto può essere questa la chiave di visione un po' bullish del mercato. Quindi se riesce a tenere questo minimo e fa i soliti trading range, magari si configura con una candela verde nella prossima settimana di rimbalzo, intorno ai 52, poi magari fa una rossa e incomincia a fare i cosiddetti zigzag classici che avevamo visto anche in questa zona qui, vedete, quando aveva fatto poi la chiusura ciclica e poi riparte con la struttura del nuovo ciclo di natura semestrale. Quindi questa è, secondo me, la visione più bullish. Devono reggere queste due medie, deve reggere questo livello di minimo, quantomeno, ragazzi, nelle prime due settimane. Poi se il mercato configura un cosiddetto doppio minimo, più in là non è una cosa poi negativissima. Ecco, quindi si fa la stesso costrutto di pattern che ha fatto qui per l'inizio del nuovo ciclo annuale. Questa è l'aspettativa più bullish, secondo me, per quanto riguarda Bitcoin. Al di sotto di questo livello abbiamo poi l'ultimo scoglio a 39, al di sotto quasi sicuramente il mercato se ne andrà a testare questa zona qui intorno ai 35 e probabilmente da lì in poi inizierà quasi, insomma, con una probabilità molto alta, 60%, inizierà il mercato orso in maniera poi oggettiva perché saremo sotto la media del ciclo annuale che è questa che vedete, la media disegnata, questa arancio, ragazzi. Mentre la media blu sta indicando la fase di chiusura del ciclo semestrale. Certo è che comunque questo inizio annuale è stato discretamente forte, ma non molto forte per quanto riguarda il mercato Bitcoin. Si vede che siamo comunque su una struttura ciclica un po' tesa, ragazzi, insomma, dopo i maxi bullish e comunque ricordiamo che il mercato è in trend rialzista dai minimi di dicembre 2018 e ovviamente ha fatto la lingua di Bayer a marzo, però è dai minimi, insomma, del 2018 che sta salendo, quindi ci sta una fase di respiro. Andiamo ad ETH perché guardate cosa e com'è la situazione di ETH, completamente diversa rispetto a quella di Bitcoin, ragazzi. Guardate un po' la situazione, cioè Bitcoin è praticamente attaccato alla media del ciclo annuale, ETH invece è completamente sopra le due medie e soprattutto la sua fase è così bullish che non ha le medie neanche vicino, cioè non è andato neanche in trading range. Guardate come cambia radicalmente la situazione se andiamo a guardare ETH. Questo spinge anche il famoso grafico della dominance di cui vi parlavo nella precedente live perché vedete che la dominance sta in effetti continuando la sua fase di discesa proprio diretta a fare quel famoso doppio minimo minimo che ci serve per chiudere il maxiciclo della dominance. Ne ho parlato nell'ultima live, ragazzi, quindi andatevi a vedere quella live lì. Allora, questo grafico di ETH ci fa un po' ben sperare rispetto alla situazione di Bitcoin, cioè ci fa sperare che probabilmente Bitcoin continuerà magari questa fase di respiro ma potrebbe reggere il trend di medio-lungo periodo, di medio diciamo è in questo momento in barra di congestione ma di lungo periodo ancora è rialzista Bitcoin, mentre ETH proprio non si smuove, è un trend assolutamente rialzista. Quindi in questo momento addirittura sembra ETH difensivo su Bitcoin. Non so se durerà una cosa del genere rispetto a un eventuale crash anche nei prossimi giorni perché probabilmente magari poi ETH se le cose si mettono male girerà ma da un punto di vista di struttura sia di analisi tecnica che di analisi ciclica ETH continua in questa fase secondo me estremamente forte rispetto a Bitcoin. L'unica questione è legata al fatto che non sta chiudendo nessun ciclo in questo minimo anzi probabilmente il ciclo l'ha chiuso quasi sicuramente nella settimana scorsa e quindi anche ETH è virato comunque in trend ribassista di breve periodo e probabilmente potrebbe andare a fare questa sua struttura di ciclo semestrale e come Bitcoin seguire con una fase di ribasso, quindi trend laterale ribassista almeno fino alla fine del mese di dicembre. Quindi secondo me da un punto di vista di struttura il mercato si compromette con questo crash ma meglio stare a questo punto su ETH guardate un po' come sta reggendo e soprattutto guardate come sono lontane queste medie. Quindi ancora per la questione ETH c'è spazio, cioè c'è spazio di manovra. Il trend è assolutamente rialzista ancora nel medio periodo rispetto a Bitcoin che invece è assolutamente il contrario ragazzi. Vi faccio vedere di nuovo il grafico. Ecco Bitcoin è assolutamente molto più debole e soprattutto nel medio periodo vedete è solo una barra di congestione gigantesca che ci ha accompagnato praticamente tutto il 2021 è stato così, cioè alti e bassi fra questi due minimi. E' una barra di congestione ragazzi, molto lunga, cioè della durata di un anno. Non ne usciamo perché fin tanto che reggono questi livelli di resistenza 67-69 i precedenti e sotto abbiamo addirittura un minimo a 30, quindi molto molto distante. Allora da un punto di vista operativo chiaramente su ETH c'è poco da fare secondo me bisogna attendere un attimo però nel trading di breve periodo invece anche ETH, birra al ribasso, non vi faccio vedere il grafico daily comunque è questo, vedete anche questo insomma significativo ci dà un'idea generale di dove siamo ridetti. Probabilmente entro questo lasso temporale andremo a costruire una barra che probabilmente potrebbe essere simile a questa che vedete in questo punto quindi con eventuali fasi di rialzo e poi trading range per poi andare eventualmente a un nuovo ciclo semestrale. Allora siamo in chiusura del ciclo semestrale dei mercati delle criptovalute e questo l'abbiamo capito, purtroppo il ciclo semestrale più corto dovrebbe chiudersi entro dicembre se invece allunga addirittura possiamo arrivare a febbraio ragazzi quindi la questione si mette delicata e niente bisogna attendere e bitcoin darà comunque come sempre probabilmente l'indicazione è molto debole, attenzione a queste medie. Vi ho detto tutto quello che c'era da dire in questo video di super aggiornamento ragazzi fatto veramente alla buona qui nella stanza e ci rivediamo invece lunedì, incrociamo le dita che reggano appunto questi numeri ma questa è la situazione attuale. Va bene, allora ciao a tutti e ci rivediamo nel prossimo video.